E' l'ultimo arrivo, la pesca del mattino, lontano davanti a Lesbo, proprio di fronte le coste della Turchia, bastava sporgersi per acchiapparli. Cosa c'è? Di tutto. Di più? Il migliore, di ogni provenienza. Venga con me sotto la tenda, vedrà ancora di meglio. Cosa? Maliani, ben conservati. La pelle nera protegge la pelle. E là? Guineani. Non tanto in buon stato. Troppo tempo a languire nei campi della Libia. Calci, frustate, bastonate, coltellate, senza contare le false partenze, le false speranze, la tortura talvolta, le finte eseguzioni e poi il viaggio troppo lungo. Come diventa? Eh, lo vede anche lei. Pelli bucate, tumefatte, scoppiate, strappate, ematomi, denti rotti, carne battute come frutta troppo matura. E questo qui si direbbe di piccola taglia. Origine indeterminata, direi Sahel, Niger o Burkina, da quelle parti. Un bambino, 11-12 anni. Ha negato all'inizio della traversata. Ha inghiottito molta acqua. Lo lasciò spurgare. Due o tre giorni. Che c'è d'altro? Beh, ha già provato lo Yemenita? Faccia vedere. Eh, mi dirà della novità. Si direbbe che è appena stato pescato. È appena uscito dall'acqua. In questo stato. Molto resistente lo Yemenita. Più fine del Palamita, secondo il Bongustai. Vuole provare? Mmm, non so. Vediamo. E quello là, sulla barella Kaki? Mmm, troppo magro. Cosa c'è laggiù, sotto quel baldacchino rosso? Altro. Tutto già prenotato. Mmm, pezzi scelti, si direbbe. Per il ministro. Ah, può capitare di incontrarlo qui? Mi stupirebbe. Passa prima di me? No, no, non viene mai di persona. Manda gli ordini prima che io vada in mare. E io gli metto da parte la merce già in barca. Gliela consegno direttamente io. Al ministero? Beh, dipende se è per lui o per l'ufficio. Quella di oggi, per esempio? Aspetta ospiti importanti dalla Spagna, dall'Ungheria. Anche una personalità dalla Turchia, da quello che ho letto sul giornale. Abbiamo già consegnato l'ordine alle cucine del ministero. I suoi gusti preferiti? Le donne. E i bambini che si sono dibattuti a lungo. Perché? Beh, per il loro coraggio. Non capisco. Vuole mangiare il loro coraggio. L'importante per lui è che abbiano lottato. Lei guadagna bene? Ci sono stati anni migliori. Adesso si vivacchia, sa, la concorrenza. Concorrenza? Quale concorrenza? La pesca industriale. Di cosa parla? E le navi dell'Europa, gli equipaggi della buona coscienza, Aquarius e compagnia. Cos'è che vi disturba? Li ripescano vivi. Prolungano il loro calvario. Se almeno li rigettassero in acqua. Fortunatamente la maggior parte di loro sono abbastanza pazzi da ritornare presto di loro volontà al punto di partenza. E noi dobbiamo trovarci là, nel momento giusto. Io ho pazienza. È l'istinto del cacciatore. Alla fine li raccogliamo col cucchiaino. Alcuni non sono proprio belli da vedere, sfigurati dal sale, dalle alghe. Buonasera a tutti. Avrete sentito, è un testo molto duro, scritto da Eric Fottorinot, giornalista, direttore di una bellissima settimanale francese, Leanne, che noi provammo a portare in Italia con Cesare in una bellissima cosa, un esperimento, che era Origami. Eric è stato passato anche direttore di Le Monde e ha scritto questo testo molto duro e anche faticoso, che diventerà a Parigi uno spettacolo teatrale e probabilmente verrà poi tradotto in Spagna, in spagnolo, in inglese. Due domande introduttive, prima che riprendano un pezzo di lettura. Come ti è venuto in mente di, onestamente, di fare un testo così duro, così forte, così provocatorio, così scabroso? Come ti è venuto in mente? Che cosa ti è scattato? Che cosa hai visto da dire? Ormai le nostre coscienze sono così addormentate che voglio fare qualcosa di così disturbante. Buongiorno a voi tutti, a voi tutti, grazie di essere venuti questo giorno. Ecco, questa incontra è abbastanza unica, originale. E' la prima volta che questo testo va a essere luo e mi piace molto. Buonasera a tutti e a tutti e vi ringrazio davvero per essere qui a questo incontro, a questa prima lettura. E' la prima volta effettivamente che questo testo viene letto. E io ringrazio Cesare Martinetti di farlo tradurre così bene in italiano. E ringrazio anche Mario Calabresi per aver sostenuto i progetti che ho portato avanti prima in Francia e che lui ha voluto portare qui in Italia. Mario, per rispondere alla tua domanda, questo testo è nato finché ero in vacanza su una bellissima isola della Bretagna. E mentre non stavo pensando assolutamente a nulla, solo a riposarmi. E allora, questa voce è venuta e non c'era un'altra soluzione per me, non c'era il problema che di recueillire questa voce come qualcosa che saigne e che bisogna indiguer, bisogna garotare. Ma poi ho sentito questa voce. Questa voce, la cui unica soluzione era quella di ascoltarla e raccontarla, approfondirla, perché soltanto con la scrittura, attraverso la scrittura, potevo farla tacere. E per concludere la risposta, quando si vuole dimenticare, che non si dimentica affatto. E che la realtà ti si ritorna proprio in faccia. Voglio dire ancora una cosa. Quando, tra l'altro c'è una citazione di un altro testo inglese dell'Ottocento, a cui hai preso ispirazione, ci racconti questo? Non, non c'è che mi sono inspirato, ci si è passato diversamente. C'è una traduccia irlanda, a cui ho donato questo testo che si chiama La pêche del giorno, e che, quando lei l'a lu, mi ha detto, che mi ha pensato a un penfletto di Jonathan Swift, scritto in 1726, quindi al XVIII secolo. La proposta è una modesta proposta che si chiama La pêche di un'onore di un'onore di un bambino, che ili bambino fanno i bambino di un bambino di un bambino di un bambino. e io non conoscivo questo texto ma dopo che finola me l'ha fatto conoscere io l'ai lu e mi ho detto in effetti che c'era una sorta di inspirazione inconsciente o un fil che era quello di la colere e di l'ironia per cercare la realtà non è che me ne sono ispirato le cose sono andate un po' diversamente ho una tradutrice irlandese a cui ho dato da leggere la pesca del giorno lei l'ha letto e poi mi ha detto questo testo mi ha fatto pensare a una raccolta di Jonathan Swift che ha scritto nel 1826 e in questa raccolta Swift parla di bambini che appartengono a famiglie povere e questi bambini sono a carico di queste famiglie e le famiglie propongono quindi ai ricchi di comprare i bambini per mangiarli e quando alla fine finola così si chiama la mia traduttrice mi ha parlato di questo testo di Swift ebbene l'ho voluto leggere e me ne sono ispirato e ho pensato che questo fosse proprio il filo che portava alla collera che portava alla ironia per chiarire quella che è la nostra realtà bene grazie grazie mi piacevo l'insegnante di lettere ma 13 anni fa hanno chiuso il liceo non c'erano abbastanza studenti avrei potuto trasferirmi ad Atene ma non c'era futuro non c'è più posto per gli insegnanti umanisti adesso vogliono studiare tutti matematica economia e sono rimasto qui per un po' ho fatto l'istruttore di nuoto e poi ho ripreso il timone all'inizio pescavo orate gallinelle branzini a strascico decine di ami attaccate a placchette di sughero li calavo sui fondali di roccia lasciavo andare il battello veniva veniva su tutto quello che volevo tanti pesci da morire adesso ho solo più cadaveri per morire si muore qui è disgustoso riesco a caricare 40 pezzi al massimo non faccio mica il macellaio io li va lontano in mare? no, non molto faccio cabotaggio piccola pesca di costa evito le imbarcazioni dove i fuggiaschi sono schiacciati come sardine a respirare fumi di benzina fino alla nausea avendo prodotti fini no, che modo di dire l'ideale è una piccola barca da una ventina di passeggeri che si rovescia alla fine del viaggio quando diventa giorno e riescono a vedere le luci dell'isola si distendono la loro pelle lucica di speranza riprendono coraggio respirano a pieni polmoni qualcuno grida di gioia la loro carne rivive e poi all'improvviso gli arriva addosso la guardia costiera con le sirene spiegate le luci accecanti dei proiettori allora si impauriscono e annegano prima dell'arrivo dei militari tra i no border e gli ufficiali di confine finisce sempre in mare e io aspetto quando le pattuglie se ne vanno tocca a me senza brutalità vado con dolcezza li raccolgo uno a uno ha mai visto gli annegati? il mondo è ingiusto ma io cosa ci posso fare? devo pensare ai vivi alla mia famiglia che devo nutrire non ai morti ho pensato che non ci avrei più fatto caso talmente ce ne sono in realtà non contano niente soprattutto i neri non esistevano da vivi esistono ancora di meno adesso che sono annegati scaricati dai loro paesi scaricati dai battelli e per finire scaricati dalle statistiche un esercito di fantasmi eppure certe volte non potrebbe cercare di salvarne qualcuno e per quale ragione? per umanità appunto ha dimenticato ciò che insegnava i suoi studenti? quando non si possono salvare tutti non si salva nessuno e poi perché parliamo di questo? continui ci sono parole che puzzano a forza di non servirsene più parole come cadaveri parole in decomposizione ne vuole sentire qualcuna? accoglienza mutualità solidarietà cura calore riconforto compassione hanno un cattivo odore non le sembra? no? il Mediterraneo è la via marittima più mortale del mondo 300 chilometri tra la Libia e le coste italiane mille occasioni di morire e se tutto questo non basta se ci sono dei sopravvissuti è stato inventato il delitto di solidarietà contro chi li soccorre la verità è che non servirà a niente voler salvare questa gente che alla fine della sua disperazione a negare a brevi al loro calvario ma lei che ne sa? lo dicono tutti quelli che finiscono nei campi di Lesbo di Lampedusa al molo di Favaloro e cosa dicono esattamente? che vivono peggio degli animali che marciscono giorno dopo giorno nelle privazioni e nella sporcizia sotto un sole di piombo prima ancora di sperare di essere registrati finiscono per venire alle mani tra afghani e siriani lotte tra bestie estenuate sangue ovunque attorno a loro i compagni che urlano si battono a morte tutta questa traversata per arrivare là una foresta di lame arrossate nel sole a piombo le autorità portuali lasciano fare sono già stracariche di impici con la burocrazia i tamponi e intanto i poliziotti li aspettano armati e con i manganelli capisce perché questi miserabili vorrebbero farla finita non si comincia una traversata così senza stringere un patto con la morte e poi molti di loro non sanno nemmeno notare qualcuno non ha idea di che cosa sia il mare vuol dire che si suicidano? un suicidio assistito se finiscono tra di noi almeno li trattiamo bene vengono puliti accuditi svuotati la pelle viene idratata allegoralmente non puzzano né i rifiuti né la decomposizione si mostrano al meglio ritrovano una dignità postuma da cadaveri nel meglio che gli possa succedere come passa la notte? raggiungo i punti segnalati dalla radio là dove sono passati gli umanitari quando ne restano e ne restano sempre due o tre senza gile arancioni allora accendo le mie lampare i sopravvissuti credono che arrivi qualcuno a salvarli spengo il motore del battello li lascio avvicinare e l'ultimo sforzo per nuotare fino a noi è fatale con le onde le correnti bevono quel che basta e di più ingoiano il mare e il mare finisce per ingoiarli muoiono tra le nostre braccia le vostre braccia? ah sì io vado sempre con Evangelos il mio secondo lui è di qui conosce gli scogli le secche Evangelos sì significa buon mossaggero lo vede? non siamo dei diavoli e la polizia? ma chiude gli occhi noi facciamo la nostra parte il commissario si serve da noi la moglie del brigatiere anche e poi cosa? e poi ne conosco di qui che vorrebbero vedere meno vivi nei campi vicini e più merce sui nostri balconi certe volte ci fanno la multa così per figura quando passa una delegazione di Bruxelles ma non paghiamo mai e non reclamano si direbbe perfino che ci incoraggino in silenzio i rappresentanti dell'Europa la mancanza di sanzioni è come una ricompensa ma affondare le loro barche è criminale ma no ma il codice della marina non lo sapeva? quando gli umanitari recuperano una barca alla deriva e hanno issato i rifugiati a bordo cosa crede che facciano? una volta che l'ultimo disgraziato è salito affondano la barca che li ha portati fin là la legge del mare si applica senza discussioni è proibito abbandonare qualunque cosa che galleggi senza nessuno che la governi si affonda ciò che potrebbe essere la salvezza per gli altri non c'è niente da scoprire è la legge degli uomini lei ha uno strano modo di interpretarla a Kalimnos li ha tirate verso gli scogli per intrappolarli per accorciare il loro calvario ma lei riesce a dormir bene? come un bebè la vede quella donna che gira intorno agli afghani stesi sulla schiena bella non trova? da dove viene? Nigeria la conosce? eh da quando mia moglie se n'è andata sta con me è mia quando torno all'alba è nel letto che mi aspetta vuole sapere come ci siamo incontrati? se ci tiene le ho parlato del canto delle sirene non erano due un'altra donna si dibatteva più giovane più robusta lei non cantava risparmiava le forze le ho teso la mano e lei è riuscita a prenderla l'ho stretta una volta a bordo non respirava più svenuta le ho fatto la respirazione bocca a bocca per farla riprendere e ha finito per ritornare in sé e a me no non capisco non c'è niente da capire ma perché lei e non le altre? lei mi piaceva non ho resistito anche i negrieri avevano i loro servitori in livrea bianca i nazisti i loro ebrei buoni e lei che cosa sa della sua attività? tutto e cosa ne dice? nulla ciò che non significa che non ci pensi guardi i suoi occhi la luce che c'è nei suoi occhi e perché rimane? va a sapere ma vede come sta su? se regge la mia coscienza significa che la mia coscienza non è così pesante ma lei l'ama? non è questo il problema eh qual è? il fatto che lei sia qui complice? no come testimone voglio che lei veda cosa faccio che qualcuno come lei sappia è così semplice ma io non lo trovo così semplice come si chiama questa sua nuova compagna? blessing ma il nome è terribile è il solo che voglio cosa vuol dire? quando si fa bracconaggio in mare si recuperano pacchi valigie all'hangar di scarico si spogliano gli annegati abiti camice t-shirt pantaloni dei mucchi informi di cose che vengono bruciati una volta alla settimana nei braceri un fumo purificatore sale verso il cielo ci capitano oggetti di ogni tipo catene collane amuleti in cuoio pietre lisce lavorate lettere manoscritte lingue indecifrabili un po' di soldi foto a metà consumate dall'acqua e dal sale i più insopportabili sono i documenti d'identità non mi stupisce è certo impiliamo legni debano nel retro del battello io li chiamo così adesso che mia moglie se n'è andata è impersonale legni debano non impegna è neutro diciamo legni ma quando all'improvviso ci capita un passaporto o un documento d'identità che l'acqua non ha completamente sbriciolato appaiono bubacar idrisà dibril aishatà il mare è un rivelatore fino a quel momento i corpi non erano niente all'improvviso esistono il legno debano non è più anonimo è un uomo una donna un bambino con il suo avvenire finito in fondo alle tasche una volta ho trovato un biglietto della lotteria nel giaccone di un maliano era la sua speranza si chiamava Alfonso vorrei tanto dimenticare il suo nome dimenticarlo lo capisco mi stupirebbe alla fine avevano ragione i negrieri ragione toglievano i nomi agli schiavi li cambiavano con dei numeri è più facile rimanere insensibili davanti al numero 327 che davanti al corpo senza vita di un bubacar e cosa ne ha fatto del biglietto della lotteria non aveva vinto nessun rimpianto e gli oggetti che gli trovate addosso gli bruciamo con gli abiti ciò che vale un po' di più lo diamo ad una venditrice al porto di Mitilene i turisti adorano queste cosette come souvenir pensano che si tratti di artigianato locale o di importazione dalle coste dell'Africa riusciamo perfino a fargli credere che arrivi dai migranti del campo della collina nera qui accanto un antico poligono militare sinistro schiacciato dal sole senza un angolo d'ombra nemmeno un po' d'acqua potabile se avessero la curiosità di andarci si renderebbero conto che niente di questo genere potrebbe mai uscire da quell'inferno di tende insalubri più volte incendiato ma quei turisti non sono dei buoni osservatori fanno attenzione soltanto ai prezzi e noi non vendiamo molto caro e sono tutti contenti è facile giocare ai buoni di cuore quando si lascia al lavoro sporco agli altri lei lei deve essere francese vero? perché? eh questo leggero sentimento di superiorità i diritti e le libertà offerti a quelli rimasti indietro vi assomigliano l'elemosina degli spiriti superiori la lezione dei numi mi dica per curiosità queste cose le insegnano ancora nelle vostre università? cosa ne avete fatto dei grandi principi? del diritto assoluto di essere soccorsi in mare del diritto di asilo che addolcisce l'esilio il diritto alla casa o di essere curato quando si è dispersi di essere accolti quando si è perso tutto aspettando i contrabbandieri vi fregano le persone come lei sono incapaci di agire e quando uccidete lo fate con le nostre mani eh ma cosa le prende all'improvviso sono venuto per parlare non per litigare mi segua mi segua guardi bene eh cos'è? delle mappe trovate su un Touareg naufragato all'interno di una cucitura doppia i nostri doganieri che lasciano passare tutto non se ne sarebbero mai accorti le immagini dettagliate di parecchie chiese in Estremadura e nel sud della Francia nel cuore di villaggi isolati lei pensa che venisse a fare il turista davanti ai monumenti religiosi del XIII secolo? ma questo cosa prova? ma guardi che cosa aveva nascosto nel fondo del suo sacco all'interno di un sacchetto stagno un manuale di esplosivi una fune di sicurezza due coltelli le basta le pecore nere ci sono sempre sì, le formano un bel greggio lo so, lo so ma non fate niente io sì è la differenza tra noi potreste però aspettare almeno qualche indicazione in più su cosa fare? da chi? dagli stati? morti da Bruxelles? morta dalla comunità internazionale più morta ancora perché ripete questa parola un'ossessione? morte, morte, morte vede qualcosa di vivo qui intorno? e di Tuareg ne passano molti? mi stupiva che non avesse reagito a quella parola no, no la rivolta la portano piuttosto verso l'altro lato nel nord del Mali ma ce ne sono parecchi che ve ne vogliono per avere lasciato linciare il leone libico senza essersi preoccupati del loro destino qualcuno sogna fuochi d'artificio a casa vostra lo confessi vi togliamo una bella spina dal piede ma che tipo di uomo è lei? lo stesso suo senza l'ipocrisia che avete fatto diventare arte d'accordo le mie mani sono sporche ma le vostre di più anzi non avete mani noi separiamo il mare dai suoi morti come il buon seme dall'olio è tutto e pensa di continuare a lungo? perché cambierebbe qualche cosa loro sono morti io vivo faccio pulizia l'intercetto finché ne arriveranno io ci sarò e sento che mi giudicate invece dovreste incitarmi ma cosa c'entro io? ma avete capito che cosa ci si abitua? all'inizio tutti questi morti in mare facevano i titoloni sui giornali i giornalisti venivano da tutta Europa si aggiravano intorno al mio banco in cerca di una buona storia mi ricordo di uno che voleva che gli raccontassi l'odissea di uno del Sahel disteso su una plancia di ghiaccio tritato con il viso ancora mascherato di alghe brune io ho risposto che non ne sapevo niente e lui insisteva perché inventassi qualche cosa mettendomi biglietti da 50 euro sotto il naso era pronto a pagarmi per le mie fandonie pur che sembrassero vere l'ho cacciato come una mosca della merda e ore media se ne fregano di quello che succede qui è da un bel po' che non vediamo un reporter da queste parti il cadavere africano non fa più vendere a malapena ci si dà la pena di contare gli annegati se sono neri passano al di sotto dell'inventario sono diventati una specie di angolo morto niente da fare niente da dire senza che ci siamo messi d'accordo in silenzio siamo diventati tutti dei mostri e lo rimprovera a me il suo accecamento mi confonde è già stato a Calais no ma ho visto delle immagini ho sentito delle testimonianze io ci sono andato non a Calais nella giungla di Calais il fango campi inondate matasse d'acciaio di filo spinato le torrette di guardia le tende spazzate dal vento freddo o tagliate dai cutter dei poliziotti la fame la disperazione di spaccarsi il naso contro le bianche scoglieri di Dover le malattie la nostalgia del proprio paese andate senza ritorno al cimitero dei rifugiati e dimentico il meglio veni vivi vinci che se lei fosse stata a Calais capirebbe basta imboccare i sentieri verso il mare per finire sul chilometro tutto nuovo del muro anti-intrusione impossibile non vedere questa meraviglia costruita dalla famosa società dei parking quella che diffonde anche la musica di Mozart nei sotterranei ben sorvegliati delle vostre raffinate città francesi niente è troppo bello troppo caro per proteggere le coste dell'Inghilterra dalla lepre migrante respinti a Calais non li vogliamo a casa nostra dicono gli inglesi e i francesi hanno risposto d'accordo ma quanto fa tre milioni di euro e il muro della vergogna è vostro veni vidi vinci gliel'ho detto l'altro giorno una donna ben messa una straniera è passata senza fermarsi davanti al bancone di uno dei miei amici del porto e fa isto ben fornito di pesci lui ha ancora qualche cliente per le orate ma è sempre più difficile ha gentilmente invitato quella donna perché buttasse un occhio alla sua merce e lei gli ha risposto che non avrebbe mai più mangiato i pesci del mediterraneo perché perché si nutrono di migranti questa è stata la risposta incredibile non trova i pesci che mangiano i migranti ma io non so cos'è più incredibile oggi e allora mi creda se ci rosicchio qualche cosa la mia parte è ben più modesta non si giustifichi non sono io il suo giudice e allora chi è lei un vile tra tanti altri che cosa vuole da me che mi porti con lei questa notte e che mi lasci là e questo cosa servirà sarò con loro sarò al loro fianco e se poi la raccolgo nella mia rete mi metta nel mucchio se domani mattina c'è un postro tra il magliano e l'eritreo mi metta là buonasera io intanto voglio ringraziare Yuri perché abbiamo fatto due prove e si è straordinariamente immedesimato in questo testo che mi rendo conto è molto forte molto coinvolgente quindi è normale ma lui è stato veramente bravo poi voglio anche ringraziare Cinzia Sgarallino che ha fatto la scelta delle fotografie che avete visto scorrere qui che sono state una scelta ponderata rispetto per accompagnare questo testo volevo aggiungere perché quando Eric con il quale siamo diciamo amici ormai da molti anni mi ha mandato questo testo un paio di mesi fa l'ho letto subito e sono rimasto evidentemente molto colpito dal testo intanto per per la qualità della scrittura ovviamente ma poi per il contenuto lui me l'ha mandato amichevolmente per dire dimmi cosa ne pensi e devo dire che io ci ho pensato e ho pensato ero molto combattuto se questo testo potesse insomma potesse essere diffuso così come un testo normale oppure se se fosse meglio far finta di niente ecco così come facciamo quotidianamente finta di niente con quello che succede in mare più o meno e poi ho pensato ho pensato che che ha una tale forza di 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 rottura di 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 imporre una riflessione su questo su questi temi che tutti più o meno abbiamo presenti ma che sono diventati veramente ormai l'ordinario prima di venire qui oggi pomeriggio guardavo sui siti e ho visto che ci sono un po' di notizie riguardo all'ultimo naufragio l'ultimo tra virgolette l'ultimo perché non sappiamo ma insomma quello di cui si è saputo quello della settimana scorsa a Calais sono stati 27 morti e un po' i giornali inglesi e anche qualche sito francese è andato alla ricostruzione delle persone dell'identità delle persone che sono che sono negate e sui giornali italiani era uscita la prima identificata che era quella ragazza kurda che che voleva raggiungere il suo fidanzato in Inghilterra dove si era stabilito aveva trovato lavoro faceva mi pare il barbiere e voleva fargli una sorpresa ma in questo racconto che ho letto quest'oggi un po' tra giornali inglesi il Times ci sta lavorando ci lavorano dei giornali francesi c'è quello che mi ha colpito è che sono anche se poi alla fine sono tutte uguali ma tutte diverse c'è esattamente il racconto che noi abbiamo fatto qui gli oggetti nelle tasche i documenti i parenti gli amici che li cercano che non sanno nessun elemento di identificazione perché molti di loro lasciavano i documenti li lasciavano agli amici quindi boh sono loro non sono loro chi lo sa naturalmente vengono ripescati a volte in condizioni irriconoscibili e quindi come dire in questa nostra serata che mi rendo conto pur difficile perché il tema è evidentemente molto difficile ho pensato che avevamo fatto bene a tradurre a fare questa serata ad invitare qui a Rick e quindi e quindi sono particolarmente contento contento è una parola banale ma insomma sono particolarmente contento diciamo così di averla fatta ecco volevo però dirti che c'è un altro riferimento letterario che non c'è solo quello di Jonathan Sweet ma anche Curzio Malaparte che racconta che nel dopoguerra nel dopoguerra napoletano in certe cene con ufficiali americani e e un'elite napoletana si consumavano delle sirene io vorrei chiederti questo allora quello che sta succedendo sui giornali inglesi in questi giorni non vorrei sembrare vicinico però i giornali inglesi stanno facendo quello che i giornali italiani e spagnoli facevano 5, 6, 7, 8 anni fa cioè i racconti delle persone che arrivavano la ricerca le rotte ricordo per esempio quando Domenico Quirico per la stampa fece tutto un lungo viaggio aspettando per giorni aspettando per giorni sulle coste della Tunisia imbarcandosi e fece naufragio alla vista di Lampedusa e adesso i giornali inglesi sono di fronte a una novità che non è una novità in assoluto però ha fatto rumore chissà temo che alla quarta quinta barca che si rovescerà nella manica se questo accadrà perché questo flusso sembra essere un flusso in aumento sarà forse anche lì un'abitudine e allora io quello che volevo chiedere a Enrico è questo torno alla foto di quel bambino Alan Kurdi era il 2 settembre del 2015 quindi sono passati poco più di 6 mesi vi ricorderete sulla spiaggia di Bodrum la barca era un bambino siriano kurdo anche questo che la barca si era rovesciata si era salvato il padre aveva perso la moglie con i figli e c'era questo bambino con i pantaloncini blu e la maglietta rossa riverso sulla spiaggia quella fotografia sconvolse l'Europa tanto che Angela Merkel dopo quella foto fece il discorso dicendo che era pronta ad accogliere e si aprì sostanzialmente la rotta balcanica arrivarono un milione di persone tra la Germania e la Svezia che cosa è successo dopo? cioè qual è il momento se tu sei un osservatore un giornalista qual è il momento in cui le cose sono cambiate? in cui l'opinione pubblica ha smesso di emozionarsi e ha girato la testa dall'altra parte che è j'accusa che fai tutto l'opinione pubblica e ci fanno dire che non può durare che bisogna fare qualcosa e che bisogna fare grazie davvero Mario per questo modo che hai avuto di ricordare questi eventi questi eventi che ormai si proseguono tra tanti anni che suscitano anche la nostra emozione e provocano uno scandalo e ci fanno dire effettivamente che questo non deve più durare è abbiamo visto in gli episodi dramati che hai rappelato in particolare questo bambino di Syriano su questa città mort noyata e l'image che il mondo ha visto non solo l'Europa ha suscitato la compassione e la decision in effetti della chanceliere allemande d'ouvrir le porte on a appelé ça un appel d'air in questo modo anche hai riportato appunto la memoria degli episodi drammatici come quel bambino Syriano sulla spiaggia un'immagine che non ha attraversato soltanto l'Europa ma il mondo intero un'immagine che ha veramente richiamato la compassione di tutti che ha portato la cancelliera Merkel ad aprire le porte e che è stata definita come una boccata d'aria in qualche mondo e io credo che c'è a un momento a questo momento l'abbiamo la force di l'immagine è stata contrecarrata per la force di la paura la paura di l'invazione la paura di l'altro la paura finalmente di perdere la nostra identità noi europei e di una certa maniera io credo che che le 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 il le il parce que les mots chacun d'entre nous peut les comprendre peut les assimiler peut réfléchir possono portare una pensia possono portare una colere e credo che oggi è bene di questo che è la question è cercare con i mots di tutto il mondo di lutter come persone e il nostro lavoro di giornalista come il lavoro dei scrivani e io cerco di essere l'un e l'altro è precisamente di affittare i nostri mots per che si possa opposare a questi pregiuditi e a queste pezioni credo che nel momento in cui abbiamo visto questa immagine la forza di questa immagine è stata contrapposta alla paura immediatamente la paura dell'invasione alla paura dell'altro alla paura della perdita della nostra identità della nostra identità europea e alla paura di essere poi sottoposti a una pressione demografica dovuta all'arrivo di questi migranti e proprio di fronte a questa immagine viene in noi scaturita in noi questa paura paura che ha nutrito il populismo più acceso e che ha fatto alzare i muri ha fatto alzare filo spinato e credo che le parole forse a volte sono deboli però sono più fedeli ancora talvolta di quello che è l'immagine perché le parole ci portano a riflettere ci portano a pensare possono scatenare in noi la collera e penso che veramente è proprio questo che noi oggi dobbiamo fare con le parole dobbiamo lottare ed è compito nostro noi che siamo giornalisti noi che siamo scrittori utilizzare queste parole per sconfiggere quella che è la paura non credi però che le parole siano usurate logorate che non facciano più il loro lavoro allora il y a un passaggio che che ho tanto frémi a entendere in italiano quando il pescello dice io vi ho dire dei mots che puo come l'accueil la solidarità tutti questi mots là io credo che tutti i mots sono usati tant che non credo tant che non credo una forma per loro dare una viguor una energia e molto modestamente c'è potente questo sentimento di impuizione che ho voluto tentare di combattere con questo libro io avrei potuto di scrittare una tribuna molto construita nella presa per denunciare una volta l'indicione europea della mediterrania fanno il lavoro o finalmente abbiamo le mani propria ma non non quindi penso che effettivamente le mots sono molto usati sono anche devaluati ma 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 le mani di inserci in una dinamica che non sia la rationalità ma di l'energia una forma di colere e di denunzione del cynismo e termine poter in diciamo che non si può accepter di diventare inumente. Dopo qualche settimana a Lesbos, in Grse, ha stato instaurato per le tribunale greco, per l'Etat greco, il crimine di solidarietà. E penso che ci sono dei mots che non vengono insieme, ma che bisogna di assoluto le dissociare. Il crimine è di non essere solida. Possiamo puzzare parole come accoglienza, come mutualità, come accoglienza. È vero, le parole possono sembrare ormai svuotate di senso. Se non vengono utilizzate, sfruttate, per invece far emergere da loro il vigore, l'energia, e modestamente, molto modestamente, è in questo modo che io cerco di combattere questo sentimento di impotenza che ho. Avrei potuto semplicemente scrivere un articolo nei miei giornali, sulla stampa, per denunciare questa possalinimità che ci caratterizza, per argomentare quella che è la situazione, anche nei minimi dettagli. Ma invece le parole ci possono svegliare, ci possono tirar fuori da questa sonnolenza, ci possono permettere di non accettare queste dittature, di non accettare il fatto che il mare si impossessa di questi cadaveri e fa il nostro lavoro, fa il lavoro al posto nostro. E quindi le parole sì, vengono svuotate di senso e possono sembrare inutili, in un certo qual modo, ma in realtà credo che siano fondamentali se sono in grado di esprimere la colera, se diventano colera, se diventano denuncia e denuncia di cinismo. Non accettare, queste parole sarebbe quasi disumano, da alcune settimane sull'isola di Desbo il Tribunale ha parlato di un nuovo reato ed è il reato di solidarietà. A mio avviso invece il reato è non essere solidali. Per venire ad un'attualità anche molto concreta, ad aprire ci saranno le elezioni presidenziali in Francia. è in corso una campagna elettorale ormai da tempo, ma insomma adesso si sta ovviamente riscaldando. E in questa campagna elettorale dove è comparso un personaggio estraneo alla politica militante normale, questo Zemmour che è un personaggio televisivo molto noto che diciamo così, per semplificare, qui ci sono molti amici della comunità francese, quindi loro entreranno nel vivo di questo, sono direttamente concerné per questa storia. Beh insomma comunque questo personaggio ha portato, diciamo che ha liberato una parola che fino a questo momento c'era ma non così netta, cioè una vera ostilità, lui peraltro è stato condannato per incitamento all'odio razziale, quindi una vera ostilità immaginando persin di rimpatriare gli stranieri che vivono sul suolo francese. La comparsa di questo Zemmour ha innescato una spirale, diciamo così sempre più a destra di parole, per cui la vera battaglia elettorale, emotiva e politica si combatterà sul tema dell'immigrazione. Anche Marine Le Pen che era diventata molto più centrista, sembrava molto più moderata, ha ripreso quei toni lì perché con la concorrenza di Zemmour adesso nel suo programma c'è addirittura quella di togliere gli aiuti alle famiglie di stranieri, ma non quelli illegali, degli stranieri legali, quindi siamo veramente in una demarche chiaramente razzista. Ecco, volevo sentire il pensiero di Erich su come si condurrà questa battaglia in cui alla fine Macron sembra quello l'unico che riesce a tenere un po' la barra. C'è difficile di prevoire anche che qualcuno come Macron possa raggiungere. In realtà, il tableo che tu dresti, Césarè, di la situazione politica in Francia, è un po' la question di migrazione. C'è dire che l'immigrazione può essere una chance e un problema. è una chance quando si è organizzata, quando si è organizzata per l'integrazione, per l'educazione. È un problema e anche un drame quando si è organizzata per la formazione di ghettos di ciò che si chiama in Francia dei territori perduti della Repubblica o dei generazioni di migrazzi, venuti in particolare di Algeria, vivere e hanno fatto, in un certo modo, cession con l'ensemble del paese. E io credo che il personaggio di Zemmour è semplicemente e terribilemente il sympto e la conseguenza di nostri eseggi a tutti. e che sono sempre molto male a l'eise nel solo atto di rinuncer gli altri, di trovare dei bambini di dire che sono i politici, che sono i stessi che ho detto, che non hanno fatto il loro lavoro, che non hanno fatto il loro lavoro, che non hanno fatto il loro lavoro, e che non hanno fatto il loro lavoro, che sono i ragazzi, che non hanno fatto il loro lavoro, Ci sono i nostri opinioni, ci sono le popolazioni, ci sono le démocratie che eliscono i governanti e ci sono noi che devono anche exprimere ciò che vogliamo. E oggi, dal fatto delle difficoltà di tutte le cose, sono economiche, sociali, sanità, il reflexo di repli l'emporto tellement fortemente che dei personaggi come Zemmour sono la mauva conscienza che abbiamo, che viene s'exprimere a haute voce e non non nel secret dei foyers o nel secret dei conscienzi. E quindi io penso che questo poesone Zemmour è l'incarnazione non non del male, ovviamente io considero che ciò che dice è inacceptable, ma io credo che è anche il nostro miroir. Non è difficile pensare che addirittura un personaggio come Macron possa vincere le elezioni. Comunque questa è la realtà dello scenario degli uomini politici francesi e questo illustra bene anche i nostri governi e quello che è la loro azione nei confronti dell'immigrazione. L'immigrazione può essere opportunità e al contempo problema. L'immigrazione diventa opportunità se si trasforma in educazione, se si trasforma in politica di integrazione. Diventa invece un problema, un dramma direi addirittura, se si trasforma in ghetto, in quelli che vengono definiti in Francia i territori perduti della Repubblica, dove generazioni di algerini si trovano a vivere e fanno secessione poi col nostro paese. Ezemore è un po' tutto il sintomo, se volete, di questo, è la conseguenza del nostro fallimento. Spesso definiamo i nostri politici forse come non sufficientemente coraggiosi, diventano a volte anche il capo espiatorio di certe situazioni, ma in realtà io ritengo che non solo i politici ma tutti i cittadini siano responsabili, perché siamo noi cittadini e la democrazia che legge il governo. Quindi tocca a noi dire quello che vogliamo. E la difficoltà che stiamo vivendo in questo momento, difficoltà di ordine politico, sociale, economico, beh, praticamente Zemmour esprime, incarna tutte queste difficoltà e lui le riesce a esprimere ad alta voce. Quindi, chiaro, quello che dice Zemmour è inaccettabile, ma in un certo senso forse lui è un po' il nostro specchio. D'altra parte, il testo stesso di Eric non nasconde questi aspetti contradditori e difficili di questa situazione. Non è che siamo soltanto attenti agli aspetti emotivi. Nel testo c'è il passaggio in cui su questi barconi ci possono essere dei terroristi. La Francia è stata durissimamente colpita dal terrorismo. In questi giorni è in corso il processo per la strage del Bataclan del 13 novembre del 2015 e alcuni, credo due o tre, dei kamikaze erano arrivati attraverso questi flussi di migrazione. Non solo, ma la Francia ha avuto la pattuglia più grossa di combattenti in Siria che tra Francia e Siria sono andati e venuti. E il rapporto diretto che c'è stato nella deposizione dell'unico di questi kamikaze sopravvissuto e che è a processo con la politica francese è stata diretta, tant'è vero che è stato chiamato a testimonianza François Hollande durante il processo perché il kamikaze si è alzato e ha detto ma voi avete bombardato ci avete bombardato avete bombardato i nostri villaggi in Siria ecco, quindi la questione è complessa l'aspetto emotivo ovviamente non non la esaurisce però ecco quello che volevo dire è che il testo di Eric ha anche questa ricchezza di sfumature e di angoli non nascondendo anche questi aspetti. C'è molto importante quello che dice Césarè perché è sicuro che questo testo è una sorta di coup de poing ma non vuole non più contribuire a deformare il fondo di la realtà io voglio dire par là che quando diceva tutto a l'ora on è tutti responsabile io parla di individu io parla di Età oggi il è evidente che l'immense maggiorità dei migranti non sono dei criminali sono dei giorni che fuono la guerra che fuono la torture che fuono la guerra che fuono la guerra che fuono la guerra ciò che arriva in controparti è il cynismo dei Stati oggi abbiamo diversi cynismi davanti abbiamo il cynismo di Boris Johnson, dei Anglii che considerano che la frontiere a controllare, non è il loro città, ma è il loro città il città dei accordi per questo, sono gli accordi del Tuquet i Anglii payano, i franzai fanno dei muri, i franzai fanno dei campi di retension e i gendarmati franzai, con dei cottoi, cacciati in le dune di Calais attendono che la mer sia calma le giorni dove può avere dei traversi e i vanno poignardo la pezza dei cani pneumatici e i li fanno cuore, e tutto il mondo è allo, y compris i bambini i bambini, i bambini, i bambini, i bambini i bambini, i bambini il città un altro cynismo on lo vedo, in Biologna a la frontiere polonaise o, con probabilmente l'assentimento di Poutine il presidente del Bélarus fa venire dei migranti e li metti ai piedi della frontiere polonaise quindi ai piedi dell'Unione Europea e poi, bambini e poi, bambini il città tutte queste traversate della Mediterranea con dei rischi inizi ma perché il città tant di mort oggi il città tant di mort perché tutti i paesi europei hanno chiamato una politica di non accueil di non accueil quindi più è difficile di passare da un paese a l'altro più è rischio più dei rischi mafiei devono la sola issue possibile quindi dire che ci sono dei passi che sono dei crimineli ma i passi diventano crimineli d'autant più crimineli che gli Stati fermano tutto l'espoir a quelli che vogliono cercare di salvare la vita è importante quello che mi ha chiesto e ha detto Cesare effettivamente questo testo chiaramente al di là delle emozioni che vuol far scaturire non vuole però deformare quello che è il fondo quello che è la realtà quando dicevo prima che siamo tutti responsabili mi riferivo a tutti i cittadini tutti i paesi e oggi questi migranti scappano e dobbiamo ricordare che non sono tutti dei criminali e sono persone che fuggono fuggono dalla guerra fuggono dalla tortura sulla loro propria carne ma però si stiamo al cinismo al cinismo di tanti stati il cinismo di Boris Johnson che definisce la frontiera come la frontiera francese e che paga i francesi perché creino un muro o addirittura perché aspettino che la sera quando il mare si placa alcuni vadano a veramente a tagliare dei canotti e si vedono così affondare bambini donne uomini il cinismo della Bielorussia che con l'assenso di Putin il presidente bielorusso fa arrivare i migranti sotto i suoi muri e il cinismo del Mediterraneo con i rischi enormi che comporta e ci chiediamo perché tutte queste vissime perché tutti questi morti e perché i paesi europei hanno deciso una politica della non accoglienza e quindi è più difficile passare da un paese all'altro cercare di arrivare in Europa e l'unica soluzione che rimane è quella della mafia quindi poi definiamo i vari passeur dei mafiosi dei criminali ma credo che i criminali siano i paesi quando smettono di dare speranza a chi invece vuole salvare la propria vita grazie penso che non ci sia più niente da aggiungere io ringrazio eric ringrazio per la per la traduzione e grazie veramente cesare per aver portato questo testo di avere permesso questa cosa complimenti per per il racconto buona serata a tutti grazie grazie